bravo, adesso poi la riprovi in piedi dopo si fa bravo prendi più rincorsa che parti in piedi in piedi eh vai vai gas 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 bravissimo bravo 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 la variante praticamente quando visto che la fate così bene la cambiamo quando siete qua si sta su si va giù di qua se si riesce si sta dentro qua e si torna su e la riprendiamo come era prima quindi scendiamo giù la facciamo dopo forse troppo stretti va dentro dentro qua dentro qua vai 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 io intendo non dentro la porta scusa da girare stretti e stare dentro dai sono Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi farerà frenare col freno dietro. Gas, 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 gas. Up, up, up. Grazie a tutti. Vai, 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 vai. Bravo. Più piano adesso qua. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.